capitolo 42 era andato a correre in spiaggia come aveva preso a fare di recente lo sapevo perché lo avevo osservato dalla mia finestra per due mattine di fila indossava un paio di pantaloncini da ginnastica e una maglietta il sudore aveva formato una chiazza in mezzo alla schiena era partito circa un'ora prima lo avevo visto andarsene e ora stava tornando di corsa verso casa scesi nel portico senza avere in testa un piano preciso l'unica cosa che sapevo era che l'estate stava per finire presto sarebbe stato troppo tardi ce ne saremmo andati e io non avrei più avuto occasione di dirglielo geremia aveva parlato chiaro e tondo adesso toccava a me farlo non potevo trascorrere un altro anno senza confidarmi con lui avevo avuto così tanta paura del cambiamento di tutto ciò che avrebbe potuto fare inclinare la nostra barchetta estiva ma geremia aveva già cambiato le cose tra noi e in fin dei conti eravamo sopravvissuti eravamo ancora belli e geremia dovevo farlo perché altrimenti mi sarei logorata non potevo continuare a desiderare qualcosa qualcuno senza sapere se fossi ricambiata o meno dovevo saperlo per certo ora o mai più corrad non mi sentì arrivare era abbassato per sciogliersi i lacci delle scarpe da tennis corrad dissi non mi udì così lo chiamai di nuovo a voce più alta corrad sollevò lo sguardo stupito poi si alzò ciao l'averlo colto di sorpresa mi parvi un buon segno corrad aveva un milione di difese forse se avessi iniziato a parlare non avrebbe avuto tempo di costruirne un'altra mi morsi il labbro e presi a parlare dissi le prime parole che mi vennero in mente quelle che avevo nel cuore fin dall'inizio ti amo da quando avevo dieci anni trassali tu sei l'unico ragazzo a cui io abbia mai pensato per tutta la mia vita ci sei sempre stato solo tu tu mi hai insegnato a ballare tu venisti a recuperarmi quella volta in cui nuotai troppo a largo ricordi rimanesti con me e mi riportasti a riva e per tutto il tempo mi dicesti ci siamo quasi e io ci credetti ci credetti perché eri tu a dirmelo e io credevo a tutto ciò che dicevi rispetto a te tutti gli altri sono dei cracker perfino cam e io odio i cracker tu lo sai tu sai tutto di me perfino questo che ti amo veramente aspettai di fronte a lui ero senza fiato avevo l'impressione che il mio cuore fosse sul punto di esplodere da tanto era gonfio mi feci una coda di cavallo con la mano e la tenni sollevata continuando ad aspettare che conrad dicesse qualcosa qualsiasi cosa prima che parlasse mi parve che fossero passati mille anni beh non dovresti io non sono quello giusto per te mi dispiace e non disse altro e misi un grosso respiro e lo fissai non ti credo risposi io ti piaccio lo so avevo visto come mi guardava quando ero con cam lo avevo visto con i miei occhi non come vorresti tu disse sospirò e con aria triste come fosse dispiaciuto per me aggiunse sei ancora una bambina belli non sono più una bambina tu vorresti che lo fossi così non saresti obbligato ad affrontare tutto questo per questo è tutta l'estate che sei arrabbiato con me replicai alzando la voce io ti piaccio ammettilo tu sei pazza rispose ridendo leggermente mentre si allontanava da me quella volta non sarebbe successo stavolta non gli avrei permesso di svignarsela tanto facilmente ero stanca della sua cupezza alla james dean lui provava qualcosa per me lo sapevo e lo avrei costretto a confessarlo lo afferrai per la manica della maglietta ammettilo ti sei arrabbiato quando io ho iniziato a uscire con cam tu volevi che restassi la tua piccola ammiratrice che cosa si liberò dalla mia presa datti una svegliata belli il mondo non ruota attorno a te le mie guance presero fuoco sentì il calore sotto alla pelle fu come un'insolazione all'ennesima potenza sì esatto perché il mondo ruota attorno a te giusto tu non hai idea di cosa stai parlando c'era un tono di avvertimento nella sua voce ma io non mi fermai ad ascoltarlo ero troppo arrabbiata stavo finalmente rivelando i miei sentimenti e ormai era impossibile tornare indietro continuai a stargli addosso non gli avrei permesso di andarsene non questa volta vuoi continuare a tenermi all'amo dico bene così continuerò a venirti dietro e tu ti sentirai soddisfatto di te stesso non appena provo a dimenticarti tu mi attiri verso di te sei tu quello fuori di testa ma io te lo dico chiaro conrad ora basta lui reagì bruscamente ma di che parli mi voltai di scatto per camminare all'indietro di modo da guardarlo in faccia e i capelli mi sbatterono sul viso ora basta non mi avrei più né come amica né come ammiratrice né in altri modi mi sono stufata conrad storse la bocca che cosa vuoi da me adesso hai un fidanzatino con cui giocare ricordi scossi il capo e mi allontanai da lui non è come pensi risposi aveva frainteso tutto quanto io non ero così era stato lui a tenermi sulla corda per tutta la vita sapeva ciò che provavo e aveva lasciato che lo amassi voleva che lo amassi si avvicinò a me un minuto prima sei innamorata di me un minuto dopo di cam fece una pausa e poi digere maia dico male vuoi la torta e pretendi di mangiartela ma vuoi anche i biscotti e il gelato taci gridai sei tu quella che fai giochetti belli cercava di apparire indifferente distaccato ma il suo corpo era teso quasi che ogni muscolo fosse tirato come le corde della sua stupida chitarra è tutta l'estate che ti comporti da idiota pensi solo a te stesso i tuoi genitori divorzieranno e allora non sono certo gli unici questa non è una giustificazione per trattare di merda la gente corrad distorse di colpo lo sguardo chiudi quella boccaccia disse con uno spasmo della mascella finalmente ce l'avevo fatta l'avevo colpito l'altro giorno susanna piangeva per causa tua è riuscita a stanto a uscire dal letto te ne importa qualcosa ti rendi conto di quanto sei egoista conrad si avvicinò ancora di più talmente tanto che i nostri volti per poco non si sfiorarono quasi volesse picchiarmi o baciarmi sentivo il cuore battermi nelle orecchie ero così arrabbiata che quasi speravo mi picchiasse sapevo che non lo avrebbe fatto mai e poi mai mi afferrò per le braccia e mi scosse e poi mi lasciò andare all'improvviso senti le lacrime salire perché per un istante pensai che mi avrebbe baciata stavo piangendo quando arrivò geremaya era di ritorno dalla piscina aveva ancora i capelli bagnati non lo avevo neppure sentito parcheggiare dopo aver dato un'occhiata a tutti e due capì che era successo qualcosa di brutto parve quasi spaventato e poi divenne semplicemente furioso disse che diavolo sta succedendo conrad che ti prende conrad gli lanciò un'occhiataccia levamela da davanti non sono dell'umore adatto per affrontare questa situazione trasali fu come se mi avesse picchiata davvero anzi fu ancora peggio fece per andarsene ma geremaya lo prese per un braccio e invece devi affrontarla ti stai comportando come un cretino smettila di scaricare la tua rabbia sugli altri lascia in pace belli rabbrividi il suo comportamento era dovuto a me per tutta l'estate l'umore instabile di conrad il fatto che si chiudesse in camera ero io non si trattava soltanto del divorzio dei genitori era così per avermi vista con un altro conrad cercò di respingere il fratello perché piuttosto non lasci tu in pace me che ne dici geremaya però non mollò la presa disse ti abbiamo lasciato in pace lo abbiamo fatto per tutta l'estate lasciandoti ubriacare e imbronciare come un moccioso sei tu il fratello maggiore mi sbaglio allora comportati da fratello maggiore fesso si uomo e affronta la questione levati dai piedi ringhiò conrad no geremaya si avvicinò finché i loro volti furono a pochi centimetri di distanza come lo erano stati i nostri meno di un quarto d'ora prima con una voce pericolosa conrad disse ti avverto geremaya sembravano due cani rabbiosi che ringhiavano schiumavano e si giravano attorno si erano dimenticati della mia presenza ebbi l'impressione di osservare la scena senza averne il permesso quasi fossi una spia volevo tapparmi le orecchie da quando li conoscevo non si erano mai trattati così a volte avevano litigato ma mai fino a quel punto sapevo che sarebbe stato giusto andarmene ma non riuscivo a farlo rimasi in disparte le braccia strette al petto sei proprio come papà lo sai gridò geremaya fu allora che capì che la questione non aveva niente a che vedere con me si trattava di una cosa molto più grossa una cosa di cui io non ero a conoscenza conrad rispinse geremaya con violenza e geremaya ricambiò la spinta conrad incespicò e per poco non cadde e quando si drizzò diede un pugno in faccia al fratello penso di aver strillato loro presero a lottare agguantandosi colpendosi lanciando imprecazioni con il fiato grosso sbatterono contro il barattolo di tè di susanna che cadde a pezzi sparpagliandosi a terra vidi del sangue ma non capivo di chi fosse continuavano a combattere anche sopra i vetri rotti anche se geremaya stava per perdere l'infradito un paio di volte di sì smettetela ma non mi ascoltarono si assomigliavano non avevo mai notato quanto si assomigliassero in quel momento però sembravano davvero fratelli continuarono a lottare finché d'un tratto dal nulla apparve mia madre da dove fosse arrivata non lo so so solo che arrivò separò i due ragazzi con la forza un'incredibile forza bruta che solo le madri riescono a tirare fuori li tenne a distanza mettendo una mano sui loro petti smettetela disse ma invece che arrabbiata sembrava triste sembrava sul punto di piangere e mia madre non piangeva mai avevano il fiatone non si rivolgevano lo sguardo ma erano bloccati tutti e tre da qualcosa che io non capivo io ero ferma ai margini a osservare la scena fu come la volta in cui andai in chiesa con taylor e tutti tranne me conoscevano le parole dei canti sollevavano le mani in aria si dondolavano sapevano ogni parola a memoria e io mi ero sentita un'intrusa lo sapete non è vero chiese mia madre togliendo le mani jeremiah inspirò e mi accorsi che stava trattenendo il respiro per cercare di non piangere il suo viso stava già cominciando a coprirsi di lividi conrad al contrario aveva un'espressione indifferente come fosse altrove finché d'un tratto il suo volto non si aprì e tornò di colpo a sembrare un bambino di otto anni mi guardai alle spalle e vidi susanna sul vano della porta indossava la sua vestaglietta bianca di cotone e mi apparve così fragile mi dispiace disse sollevando le mani con aria impotente avanzò verso i ragazzi e mia madre si fece da parte susanna spalancò le braccia e jeremiah vi si gettò eppure essendo molto più alto di lei mi sembrò piccolo il sangue sulla faccia le imbrattò la vestaglia ma non sciolsero l'abbraccio jeremiah pianse come non lo avevo più sentito piangere dalla volta in cui anni addietro conrad gli aveva chiuso per sbaglio la mano nella portiera dell'auto quel giorno anche conrad aveva pianto a dirotto ma questa volta no lasciò che susanna gli sfiorasse i capelli ma non pianse belli andiamo disse mia madre prendendomi per mano non lo faceva da lunghissimo tempo come una bambina la seguì dentro casa andammo al piano di sopra in camera sua chiuse la porta e si sedette sul letto io mi sedetti al suo fianco che succede le chiesi balbettando cercando una risposta sul suo volto lei mi prese le mani tra le sue le tenne strette quasi fosse lei ad aggrapparsi a me e non viceversa mi disse belli susanna è di nuovo malata chiusi gli occhi senti il mare mughiarmi attorno fu come tenere una conchiglia vicinissima all'orecchio non era vero non era vero ero ovunque ma non là in quel momento stavo nuotando sotto a una volta di stelle ero a scuola durante l'ora di matematica in bicicletta sulla pista dietro a casa nostra non ero là non stava succedendo o cocca sospirò mia madre aprì gli occhi devi ascoltarmi non riuscivo ad aprirli non l'ascoltavo non ero là susanna è malata lo è da molto tempo il tumore è tornato ed è aggressivo si è diffuso al fegato aprì gli occhi e ritrassi bruscamente le mani smetti di parlare susanna non è malata sta bene è ancora lei avevo la faccia bagnata e non sapevo neppure quando avevo iniziato a piangere mia madre a noi le labbra bagnate hai ragione è ancora lei fa le cose a modo suo non voleva che voi ragazzi lo sapeste voleva che questa estate fosse perfetta la sua voce si inceppò sulla parola perfetta come un paio di calze che si smaglia mia madre cedette e le vennero le lacrime agli occhi mi tirò a sé mi strinsi al petto e mi cullò e io glielo lasciai fare ma loro lo sapevano piagnocolai lo sapevano tutti tranne me io ero l'unica a non saperlo e voglio bene a susanna più di chiunque altro questo non era vero lo sapevo jeremiah e conrad le volevano più bene di tutti ma in quel momento mi sembrava vero avrei voluto dire a mia madre che comunque non aveva importanza che susanna aveva già avuto un tumore ed era tornata a stare bene sarebbe tornata a stare bene di nuovo dirlo apertamente però avrebbe significato ammettere che susanna aveva davvero un tumore che stava davvero succedendo non ci riuscì quella notte mi coricai e piansi mi faceva male tutto il corpo aprì tutte le finestre della camera e rimasi al buio ad ascoltare l'oceano speravo che la marea mi portasse via per sempre mi domandai se fosse così che si sentivano conrad e jeremiah e mia madre avevo la sensazione che il